Ciao, 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 sempre benvenuti in un nuovo video di cui ho parlato di Fabio Collier ha iniziato in una squadra e poi è andato nel Torino e poi nella Sampdoria e poi è andato nella Nazionale Triana e ha vinto tante coppie, quindi lo parlavo a dire, quindi Fabio Collier ha iniziato in queste squadre, quindi lo parlavo a dire, quindi voglio dire di Fabio Collier che ha iniziato in queste squadre e ha fatto anche tutta la collaborazione del 2019, quindi ciao a tutti.